Come hai iniziato a giocare a calcio? Il mio fratello è circa 5 anni nella squadra del mio paese e poi a 7 anni sono passato al Brescia, ho fatto 9 anni lì e poi la scorsa estate sono passato all'Inter. A che giocatore dicono che assomigli? Questo non lo so, sicuramente mi ispiro molto sia a Cambiasso che a Guarin anche perché hanno il mio stesso ruolo. Dicono un po' più di uno, uno degli ultimi redondo dicono. Che grande partita del passato avresti voluto giocare? Beh, agli europei, la finale degli europei. Credo la semifinale di ritorno di Champions, Barcellona-Inter. Film preferito? Mi piaceva tutti i film d'azione in generale, il preferito forse Inception. Il film preferito sicuramente Quasi Amici. L'ultimo libro che hai letto? Ehi, non me lo ricordo. Sono un fanatico di Harry Potter, infatti ho letto più volte i sette libri diciamo. Che musica ascolti? Amo Vasco Rossi, però diciamo che ascolto tutti i generi di musica. Musica ascolto in generale un po' tutto, mi piace sia dall'hip hop, rap, anche più dance, la discoteca. La cavolata più grande che hai fatto nella tua vita? Vabbè, non ti vengono in mente le cazzate. Se te le chiedi, se ce le chiedo a te, è la grande cazzata che hai fatto. Ma guarda, sinceramente di cavolate non credo di averne fatte. Magari ho fatto un po' di, diciamo, cose da adolescenze, però cavolate no. Coppia velina calciatore? Chi scegli? Ma non ci penso, sinceramente nessuna. Secondo me la più bella è la satta. Lo hai detto a Boteng? Ancora no, meglio che non glielo dico. Con che giocatore della prima squadra ti trovi meglio? Ma credo che i migliori siano, diciamo, la vecchia guarda. Zanetti, Cambiasso, Guarin, poi vabbè c'è Cassano, simpaticissimo. Però diciamo tutti questi. Ho legato, vabbè, con De Sciglio, che è uno giovane comunque. Segni il tuo primo goal in Champions, come esulti? Eh, guarda, sarà una cosa istintiva sicuramente. Magari preparare qualcosa per amici o non lo so. Non esulto, non mi piace esultare. Cioè, magari grido, però non faccio esultanze strane. Cosa pensi dell'altro? Ma è sicuramente un giovane molto interessante. Ha già fatto partite con la prima squadra. Ha un gran fisico. Cioè, non l'ho visto tante volte giocare, però sicuramente è di prospettiva. Un ottimo giocatore, abbiamo giocato insieme in nazionale, anche se è un mio rivale all'Inter. Comunque, secondo me lo reputo un ottimo giocatore. Adesso ci beccheremo al prossimo derby. Chi è il più forte? Tra me l'ora. Eh, perde l'ora, mi sa. Chi è il più forte. Chi è il più forte. Il più forte.